ciao sono francesca e questo è l'episodio di aprile 2024 di parole a maglia il video blog parole a maglia è anche un podcast che potete ascoltare su spotify inoltre sempre su youtube pubblico anche una serie di video che si chiama lane e pozioni l'argomento è sempre la maglia e tutto quello che può avere un'attinenza vicina o lontana prima di passare all'argomento principale di questa puntata vorrei farvi vedere tre lavori che ho portato a termine questo mese chi mi segue su instagram avrà visto il cotton please che è un modello di calzini in cotone che va ad arricchire la mini collezione cotton club che adesso è costituita appunto da tre modelli di calzini nati proprio per con lo scopo di essere lavorati con il cotone il filato il cotton ball della tedesca shopper volle ed è un cotone biologico lavorato e coltivato comunque in grecia il secondo progetto invece è il pussy hat di cui però ho parlato ampiamente nell'ultima puntata di lana e pozioni se l'avete persa vi invito ad andarla a vedere il terzo e ultimo progetto è il mio piece of silver che non è color silver ovviamente color argento è un maione a collo alto su modello di vera valimaki che ho fatto con la pelugal che è un filato abbastanza sottile ma molto caldo in lana portoghese purtroppo per quanto in questi giorni le temperature si siano abbassate non è un maione da poter indossare ad aprile quindi una volta terminato l'ho soltanto provato fotografato e subito messo via ma proprio a proposito di stagioni saltando a pie pari la primavera oggi voglio parlarvi di filati estivi cioè filati che essendo privi di lana o comunque contenendone molto poca e sono adatti alla lavorazione di indumenti da da indossare in estate appunto non che sia obbligatorio fare a meno della lana abbandonare questo questo tipo di fibra anche perché diciamo che la fibra preferita dalla maggior parte di chi lavora a maglia però se vivi in un posto dove almeno per sei mesi all'anno la temperatura non ti permette di indossare la lana questi filati sono davvero tanto utili quest'anno poi in particolare a differenza di quanto faccio solitamente ho deciso di passare ai filati estivi un pochettino prima di quanto faccio normalmente quindi sono arrivata a fine aprile con una serie di progetti che desideravo appunto realizzare con filati che o erano già in mio possesso oppure che ho acquistato per l'occasione e quindi oggi vi parlerò appunto di questi filati come sicuramente noterete non c'è molto cotone in questi filati mentre c'è decisamente il lino e anche un po di seta e anche della viscosa partiamo dal primo filato pure silk di knitting for olive knitting for olive è una piccola azienda familiare danese che produce filati dal 2016 pure silk come dice il nome è un filato in pura seta ma non è la solita seta lucida infatti si tratta di seta burrette probabilmente già lo sapete che nella produzione della seta convenzionale i bozzoli vengono bolliti con l'animale dentro cioè lasciando morire i bachi da seta che sono all'interno in questo modo è possibile utilizzare il lungo filo di seta che costituisce il bozzolo intatto la seta burrette o seta tassa invece è fatta di fili di seta provenienti da bozzoli rotti dove i bachi da seta si sono evoluti in falene e sono fuggiti dal bozzolo il bozzolo rotto ora è composto da tanti pezzi brevi pezzi di fili di seta e queste corte fibre di seta vengono appunto lavorate per farle diventare filato ma questo è un procedimento lungo e costoso il risultato finale è meno liscio rispetto appunto alla seta convenzionale perché i fili di seta lunghi rendono il prodotto finale più liscio e più lucido questi sono gomitoli da 50 grammi per 250 metri ne ho quattro gomitoli in questo colore dark cognac e ne farò anzi ne sto già facendo una maglietta il modello che ho scelto è il suri shirt che in origine prevede un altro filato il tassa tweed di bisigarn che però è sempre una seta burrette ma a differenza di questa ha un particolare effetto tweed e la scelta della pure silk conferisce diciamo alla maglietta un aspetto più liscio più definito rispetto all'originale il secondo filato è studio linen di erica knight erica knight è una designer britannica che già nel 2012 aveva appunto era nota come designer e ha fondato un'azienda per la produzione di filati e la sua missione era quella di sostenere la lana britannica e le fibre naturali e sostenibili si tratta di una decay cioè è uno spessore diciamo leggermente più sottile rispetto allo spessore medio sono 120 metri in 50 grammi e ha la particolarità di contenere l'85 per cento di viscosa di lino riciclato e il 15 per cento di lino nuovo in questo modo il filato è molto più morbido rispetto a quanto può essere un filato in lino naturale al cento per cento non conoscevo questo filato ho preso queste matassine per lavorare un modello estivo che è tratto da dal nuovo libro di valentina cosciani che però ancora non è stato pubblicato e quindi non posso farvelo vedere passiamo adesso a due filati che sono due rimanenze e che ho messo insieme per un progetto a due colori sono entrambi i filati che contengono lino amore lino 65 per cento cotone e 35 per cento lino mentre lino e al cento per cento lino entrambi sono di borgo dei pazzi un'azienda che produce e vende filati in toscana lo spessore è sport per entrambi e si tratta di come dicevo di rimanenze di progetti estivi fatti negli anni passati amore lino è stato usato per questo modello il green machine che ho fatto l'anno scorso e mi erano rimasti ben sei gomitoli mentre il lino l'avevo preso credo tre anni fa per fare il moonlight shadow di isabella dione no di annalisa scusate di annalisa dione con questi gomitoli dovrei riuscire a lavorare il dingley dell questo sì di isabel kramer modificando però l'altezza delle righe perché appunto molto meno filato chiaro rispetto a quello scuro spero di aver fatto bene i calcoli naturalmente dell'ino cento per cento di borgo dei pazzi ne ho anche in altri colori infatti l'avevo acquistato l'anno scorso in due colori questi due colori azzurro celeste blu per fare per fare una maglietta righe la everyday attitude che poi però non ho fatto perché era la fine dell'estate e avevo voglia già di tornare alla lana allora volevo dire che questo tipo di lino naturale non è piacevolissimo da lavorare e lino è una fibra duretta soprattutto se paragonata alla lana non ha elasticità però il risultato ripaga degli sforzi compiuti ultimo filato estivo il trio 2 di isager yarn isager yarn è una rinomata azienda danese che produce filati sin dal 1977 questo è un blend di lino cotone e lio cell un tipo di viscosa derivata da legno in genere eucaliptos è la prima volta che lo uso è in gomitoli da 50 grammi per 175 metri in uno spessore catalogato come sport cosa ci farò una maglietta estiva probabilmente la big in japan che è un modello che in origine prevede di essere lavorato con la ito in particolare usando la kino e la washi la kino è una seta burretta e la washi credo sia quella che contiene carta però insomma io desideravo appunto provare questa trio 2 che da quanto posso toccare diciamo così non è morbidissima però è leggermente più morbida rispetto a un lino 100% bene i miei filati estivi sono tutti qui direi che sono stata molto ottimista nel senso che non sono sicura di riuscire a realizzare tutto quello che ho programmato inoltre non escludo la possibilità di avviare anche altro dato che quando sarò in spagna in agosto sicuramente parteciperò ad almeno un workshop è altamente probabile che avvierò qualche ulteriore progetto vedremo sono curiosa ditemi se anche voi avete già in mente dei progetti estivi oppure se aspettate il caldo per pensarci o ancora non siete proprio il tipo di persona che abbandona la lana neanche sotto l'ombrellone grazie per avermi ascoltata fin qui grazie a coloro che lasceranno un like e soprattutto grazie a tutti coloro che si prendono la briga di lasciare un commento è sempre una grande gioia leggere i vostri commenti sono sempre molto gentili molto carini non mi resta che salutarvi e augurarvi buona maglia grazie a tutti grazie a tutti